Ci troviamo a Taranto, quartiere Paolo VI, guardate un albero, un pino, le cui radici stanno letteralmente proprio sollevando, ribaltando il marciapiede e vediamo l'albero pericolosissimamente inclinato. Non so quanto potrà durare, potrebbe anche verificarsi l'ennesima tragedia, un albero che all'improvviso praticamente cade, crolla con i rischi che una situazione del genere comporta. Voi ricordate quello che successe in Via Cagliari? Bene, vi stiamo preannunciando quello che potrà succedere e verosimilmente accadrà a Paolo VI, perché si sa ormai a Taranto va di moda il problema quando si pone nell'immediatezza, si parla del problema dell'albero franato, dell'albero caduto per 3, 4, 5 giorni e poi passato il santo, passata la festa. Per me invece non esistono i problemi dei cittadini che vengono sollevati tutti i giorni. Guardate qui cosa sta accadendo. Fra un po' noi avremo una tragedia. Ebbene che il signor Melucci, sindaco di Taranto, lo sappia e intervenga. Caro Melucci, sei avvisato. Stessa cosa farò con i vigili del fuoco e stessa cosa farò con il prefetto, che è il rappresentante del governo a Taranto. I soggetti istituzionali devono sapere che qui è a rischio la pubblica incolumità. Io lo dirò, metterò nero su bianco e poi, se qualcuno non vorrà intervenire, si assumerà le proprie responsabilità in caso di tragedia e morali e penali e civili. Uovo avvisato e mezzo salvato. Questo albero potrebbe cadere da un momento all'altro. Si sta, lo ripeto, pericolosamente ribaltando e stiamo parlando di un pino mastodontico.